Ora certo, è sempre l'inizio, i calcoli no, le somme si tirano alla fine, però è un grande inizio da parte di Pieri. Solo uno stop contro Conegliano e poi una serie di vittorie stasera, questa situazione di vantaggio 2-0-7-5. Bosio, un'alzata in 4, Villani prova a spingere lungo ma c'è Carcassese. Bosetti contro le mani alte del muro, il tocco c'è, nettissimo il punto di Novara. Brava Bosetti, mettiamo questo suo attacco, mani alte, Weisel che stava già scendendo da muro, infatti Caterina ha preso un po' il muro in controtempo nella fase discendente.